Ciao, sono Alberto Ottoni, ti ringrazio di essere venuto su questo sito a guardare e io dove ti spiego di cambiare la tua stufa gratuitamente. Allora, devi sapere che, allora, parliamo francamente, e toglia perché non vedo un cavolo, c'è un incentivo europeo dove vogliono eliminare le vecchie stufe perché inquinano troppo, quindi per togliere queste stufe qua hanno motivato tutta la popolazione italiana a darti dei soldi per cambiare la tua vecchia stufa. Ci sono delle stufe che costano tanto quanto l'incentivo che vai a prendere. In poche parole, tu prendi una stufa che costa 1.200 euro e nel giro di 6-7 mesi ti ritornano dietro 1.200 euro. Mi spiego meglio il perché, perché è dell'incredibile, perché tu dici perché mi devono dare dei soldi. Tu devi immaginare che le stufe vecchie, tipo questo qua è un cammino riadattato, quando non c'era questo cammino qua c'era un buco dove con tutta la ghisa all'interno ci si buttava sulla legna, c'era una bella fiamma e ci si scaldava praticamente dove sono seduto adesso e basta. Questo cammino qua praticamente bruciava in un giorno tot chili di legna, ipotizziamo che fossero 50 chili, di questi 50 chili di legna 40 chili vanno in atmosfera e 10 ti restano in casa. Cosa vuol dire? Che il cammino ha reso il 20% e ha consumato l'80% di roba per scaldare l'atmosfera, in poche parole ha inquinato. Tra le altre cose mi hanno anche chiamato dei clienti dicendomi ma è vero che in Lombardia non si possono più utilizzare le macchine a legna? È vero in parte, cioè tu in Lombardia non puoi più usare macchine a legna che rendono meno del 75%. Quindi, che sia legna o che sia pellet, le macchine devono avere una resa molto elevata. A legna devono essere più di 75% e a pellet devono essere più dell'85%. Andando in soldoni, cosa vuol dire? Tu metti 100 chili di pellet dentro la tua stufa, di quei 100 chili almeno 85% devono averti scaldato la casa. Allora, lo Stato europeo, che poi in realtà è l'Europa, dice voi in Italia potete andare a legna ma dovete impinare di meno. Allora, hanno messo questi soldi a disposizione che noi ci impegneremo per farti riprendere. Il patto cosa deve essere? Che io ti cambio la tua vecchia stufa e te ne metto una nuova. Te ne metto una nuova, più efficiente e che scalda di più. Quindi, cos'è il problema? Cos'è che tu devi fare? Tu devi venire qua e immaginarti che devi prenderti una stufa che rende tanto, che scalda tanto e devi aspettare circa 10 mesi dove ti torneranno indietro questi soldi. Ok? Quindi, non è una bufala, è vera. Non accorre il tipo, bene, allora vengo lì, porto via la stufa e sono già a posto. No, in realtà la cosa precisa è che tu vieni qua, noi veniamo da te, ti facciamo sopra l'uogo, ti scegliamo la stufa adatta per casa tua e ci sono delle stufe belle perché più soldi prendono, più vuol dire che funzionano bene. Cioè, è l'opposto, non è che ti do una stufa schifosa perché costa poco e allora te la do a costo zero. Non è questo l'obiettivo, anzi, è tutt'altro. Cioè, più la stufa funziona bene, più è bella, più rende e più soldi tu prendi. Quindi, più resa, meno spesa, come dice il Franco. Allora, quello che dobbiamo fare adesso è, tu metti i tuoi contatti col tuo nuovo telefono qua sotto e noi ti ricontattiamo. Se sei disposto a avere una stufa migliore, questo è il tuo momento. Anche se hai una stufa vecchia di 2-3 anni che non funziona più tanto bene, non ha a volte senso aggiustarla perché questo incentivo prende stufe più vecchie di un anno. Tu prendi una stufa nuova, la paghi e nel giro di un anno ti ritorni dietro quasi tutti i soldi. Ovviamente c'è un'altra cosa che tu devi sapere. Lo Stato ti darà al massimo il 65% di quello che tu hai speso. Quindi, adesso sei detto il 65% di tu hai in 10 anni, no, quella è un'altra cosa. Questo bando dice, tu spendi 1.000, al massimo ti do indietro 650 euro. Quindi cosa vuol dire? Se la stufa ti fa prendere 1.220 euro, tu non puoi spendere 1.220 per prenderli tutti. Allora, piuttosto che perdere dei soldi a fondo perduto gratuitamente, è meglio che noi alziamo la fattura, cioè non è che alziamo la fattura, facciamo in modo che ci sia del pellet in omaggio, che ci sia della, che ne so, della canna a fumare perché deve essere norma, perché tutto deve funzionare per filo e per segno in modo perfetto, vedrai che ti daremo qualcosa in più perché tu possa ricevere il massimo di questo contributo. Allora, andiamo terra a terra. Tu compri una stufa, compri del pellet e hai la stufa ripagata nel giro di 10 mesi. Farò in modo di presentarti tutte le testimonianze di quelli che hanno ricevuto questi soldi nel giro di 10 mesi, quindi non 10 anni, 10 mesi, e tu avrai questo contributo. Spero di essere stato chiaro, spero che tu hai bisogno di me e farò in modo che tu sia soddisfatto al 100% per avere una casa calda, una stufa che funziona bene, silenziosa, bella, dove tu possa fare una bella figura davanti ai tuoi amici, perché sennò che senso ha, è vero, è che sai anche te. Abbiamo finito? Va bene.